Quando un'amministrazione, quando un'azienda in difficoltà deve essere sempre sensibile, deve usare tutte le leve di cui è in possesso. In questo caso parliamo di un'azienda che è controllata da Aset Spa, che fa determinati servizi per quello che ci riguarda, però purtroppo parliamo di risorse non importanti. Io avevo già avuto modo di incontrare i sindacati e mi ero impegnato di destinare dove è possibile quelle attività che loro possono fare, di cui l'amministrazione ha bisogno. Io ne ho parlato anche con gli uffici, anche se noi abbiamo delle regole, possiamo solo affidare in house determinati servizi, altrimenti gli altri seguono le gare. Però il problema vero è che qui parliamo di cifre non importanti che non possono risolvere il problema di un'azienda, quindi è una piccola parte che noi possiamo fare. Anche qui però dobbiamo vedere compatibilmente con le capacità del nostro bilancio e delle esigenze vere che noi abbiamo. E ripeto, non si parla di risorse molto importanti.